Posso fare al massimo 90... No, perché sto pingando? Rosico, spacco tutto, ve lo giuro, rompo qualcosa nella mia casa di vero. Perché acquistare da Gucci o da altri brand di lusso, quando ormai sapete benissimo che è arrivato online il nuovo merchandising di Croatomist? Stiamo parlando della seconda edizione con una nuovissima colorazione e un nuovissimo design. Vi lascio il link in descrizione e vi ricordo di taggarmi su Instagram non appena riceverete i prodotti, così che potrò condividere tutte le vostre stories. Adesso è arrivato però il momento di flexare con stile. Link in descrizione. Prima che Kit sta dall'altra parte, questo è un grosso problema. No, no, no. Fog in the chat Fog in the chat raga Ce l'abbiamo We fucking got him Sbaglio c'è un nemico Madre mia Carica Fluida Dov'è io veramente fregare a casa mia Mi hai capito la mia appartenenza Wow Ma c'è questi vogliono Vogliono veramente fregare a casa mia raga Basta c'è Basta Questa è casa mia C'è scritto Martina Punto fine Basta È casa mia Ragazzi c'è Non hanno capito Qua comanda Martina No no Mi ha aiutato Madonna in questo momento vorrei dire una bella parolina Non mi dica chi Che bello Vuoi assaggiare No 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 Io bestemmio Io bestemmio Io bestemmio Io bestemmio Non mi interessa Janàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà ma che mi spara madonna ti giuro mi hai rotto veramente che ansia ragazzi sono un player qua mi hanno pure spottata e si ragazzi carichiamo un attimo il mio frullatorino ma c'è ti sembra normale questo comportamento ti sembra normale amore mio ragazzi io vengo pure l'rpg frega proprio niente vado proprio full fucking toxic mod non mi interessa mi sparano c'è ho il lanciarazio del cuscino vivo in sicilio e rimpiazzo oh my god ho ammazzato ninja ninja morto check che bello ragazzi razza check mi sparo sopra di lui ha le spine ha le spinelli 95 fra ce l'hai messo in stedato mi vuoi sapere dove abiti possiamo metterci in contatto se vuoi direct su instagram grazie comunque ragazzi ammettetelo dovete ammettere l'abbinamento che ho fatto con questa skin è fenomenale dai questo abbinamento ve lo sono creata io ed è bellissimo mi piace da morire mi sa proprio di tryharder assassino mi sa proprio no no mi piace da morire no no filiput why you go this fair my friend oh my god chill chill the fuck down no calma calma ninja check ho ammazzato ninja di nuovo posso fare al massimo 90 no perché sto pingando rosico spacco tutto ve lo giuro rompo qualcosa nella mia c***a casa di merda fino lag puggers we are back grande sicilia grande italia grandissima complimenti we 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 calmo fra calmo calmo il problema è che ora mi sta pure friend or pound ragazzi perché mi ha dato problemi di connessione quindi ormai mi friend orpa allora ragazzi tecnica 995 sapete che questa è una tecnica 995 ve la spiego subito mi scusi Problema Andiamo dal dottorino Come andiamo dal dottorino Elicotter check! Tiki 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 tiki! Woohoo! Come bello! Andare in giro! Poggers! Quante l'ho fatta? 17, vabbè però c'è il mio numero, però c'è il mio numero, però c'è il mio numero, c'è il 7, va benissimo. Con tutto che stavo per perdere il game perché stavo laggando, bel game, bel game, bel game, bel game, bel game, bel game, bel game. Digi cavolo, bel game, dai, prima game della giornata ci stava, bella carica, bella potente.